Oggi è una sorta di giornata di relax, di riposo, perché comunque la Juventus poi giocherà sabato sera a Roma contro la Lazio e quindi abbiamo un paio di giorni per respirare in questo aprile che sta veramente diventando molto molto intenso perché è compresso, ci sono un milione di appuntamenti, un milione di cose da tenere sotto controllo, sott'occhio e tra l'altro qualcosa si sta muovendo anche nell'ultimo relato extracampo. Io vorrei però prima di tutto chiudere definitivamente la questione legata a Lukaku, quindi l'extracampo di Juve Inter dell'altra sera perché quello che sto leggendo un po' nei social, quello che mi sembra essere il sentimento popolare che si è generato giustamente a difesa di Lukaku dopo quello che è accaduto l'altra sera, sta andando in una direzione che però non rappresenta la realtà perché viene fatto passare o comunque viene condivisa l'idea che la Juventus e i tifosi della Juventus siano razzisti non è questo il messaggio che deve passare, deve passare il messaggio che all'interno della curva della Juventus l'altra sera c'erano 2, 4, 10, 100, 1000, 2000, non lo so, io non ho idea di quale sia il numero ma sicuramente una ristretta minoranza di persone che hanno delle idee che vanno completamente in antitesi con quello che dovrebbe essere il ragionamento e la correttezza nel 2023. Quindi non fate passare lo stadio della Juventus, i tifosi della Juventus o la Juventus come una società razzista perché io ho guardato mille video, davvero mille video di quelli presenti allo stadio l'altra sera di tifosi presenti allo stadio che hanno pubblicato sui social, nelle storie Instagram, su Twitter, su TikTok, dappertutto e c'è un solo coro, un solo video in cui vediamo quegli insulti perché è stata una ristretta minoranza in un momento, quindi questi verranno identificati e allontanati dagli stadi perché queste persone negli stadi non ci devono essere ma per tutto il resto della partita mi sembra che ci sia stato il rispetto nei confronti dell'avversario ovviamente dal punto di vista rastiale perché poi Juve Inter è Juve Inter e dal punto di vista agonistico si gioca anche in curva come è giusto che sia in tutti gli stadi è giustissima questa cosa, poi non bisogna superare un limite quindi quello che mi preme, dato che ho la possibilità di farmi portavoce di questa cosa è sottolineare che la Juventus non è rassista, il tifoso della Juventus non è rassista all'interno del tifo della Juventus l'altra sera purtroppo c'erano delle persone rassiste e che hanno voluto creare questo caos sono due cose completamente diverse e questo chiude un po' la questione, chiude un attimino tutto quello che abbiamo comunque già detto anche ieri sulla questione Lukaku e sempre ieri mi è capitato di vedere Gravina eletto vicepresidente UEFA Seferin è stato rieletto è stata una sorpresa la rilezione di Seferin perché questa volta aveva degli avversari veramente duri difficili da abbattere eppure complimenti perché ci è riuscito dato che era l'unico candidato non lo so, a me fa un po' ridere tutta questa storia perché si vuole provare a fare un'altra competizione diversa da quella e no, non si può fare c'è il monopolio, no, non si può fare il presidente è quello lì non ce ne possono essere altri nessun altro scandida a me sembra veramente una situazione illogica all'interno di un mondo in cui viviamo costantemente in mezzo al dualismo vi faccio un esempio banalissimo iOS o Android McDonald's o Burger King Nike o Adidas siamo sempre in mezzo a degli opposti gli stessi YouTube e Twitch anche se offrono servizi differenti ma sempre cose opposte nel calcio mondiale anzi europeo quindi la più grande carica del calcio europeo nella massima competizione del calcio europeo non ci può essere una scelta deve essere una cosa sola il monopolio nel 2023 mi sembra una cosa abbastanza bizzarra e particolare mi piacerebbe capire che cosa c'è sotto a tutte queste cose così che mi piacerebbe capire il perché Gravina quali sono state le motivazioni che hanno portato vedremo che cosa succederà qualcuno parla di un Gravina che vorrebbe portare in Italia una competizione come un europeo vediamo se questa cosa sarà possibile nei prossimi anni e quindi cercare di collaborare con la UEFA non lo so non ne ho la più pallida idea vediamo sono rimasto sicuramente sorpreso dalla notizia perché mai mi sarei aspettato una roba del genere e forse viene vista anche un po' la Serie A come campionato di riferimento a questo punto non ne ho idea però poi io penso banalmente a tutto quello che è successo nelle ultimissime giornate in Serie A e capisco che siamo indietro mi viene in mente le risse al Maradona di Napoli in Napoli-Milan mi vengono in mente le offese razziali a Stankovic in Roma-Sampdoria mi viene in mente appunto quanto successo con Lukaku in Juventus-Inter se questo è lo spettacolo che andiamo ad offrire secondo me siamo abbastanza indietro la cosa bella della Juventus e la fortuna secondo me di noi tipo di Juventini è che possedendo una struttura come l'Alliance Stadium di nostra proprietà e ormai da dieci anni quindi stiamo parlando di una cosa che ha già dieci anni undici anni e che quindi è stata pensata addirittura prima e in Italia con strutture di proprietà siamo ancora due, tre forse quattro club al massimo viene in mente l'Udinese con la Dacia Arena mi viene in mente il Cagliari che non è nemmeno più in Serie A con la Sardegna Arena mi viene in mente il Sassuolo con il Mappei Stadium quante altre ce ne sono magari mi sfuggono però stiamo parlando di chissà quante strutture di questo tipo la Juventus può identificare può cercare può appunto collaborare con gli organi di giustizia come ha annunciato anche ieri in un comunicato per cercare di migliorare questa situazione tanti altri stadi che sono ancora fermi Italia 90 per costruzione no e io credo che da questo punto di vista anche la politica del nostro paese stia abbastanza sonnecchiando perché se poi non vengono fornite le autorizzazioni alle società a costruire nuovi impianti all'avanguardia sia dal punto di vista estetico moderno quindi di design che ci sta perché anche l'occhio vuole la sua parte dalla seconda battuta dal punto di vista della sicurezza perché ovviamente abbiamo degli impianti che sono più vecchi di me che io quest'estate faccio 31 anni che contengono 50 60 70 100 mila persone inizia ad essere forse qualcosina di bizzarro anche questo come ragionamento e in terza battuta proprio dal punto di vista della prevenzione di determinati episodi perché è impossibile prevenire completamente ma se si iniziano a punire certe persone sono sicuro sono veramente convinto che allo stadio poi non entreranno più perché verrà applicato un daspo io vedo anche tanti video delle curve anche solo dell'intero del Milan che fanno cori sempre contro il Napoli l'ho visto fare nelle curve della Juventus queste cose vanno sistemate ragazzi queste cose vanno migliorate perché il 1023 lo trovo francamente intollerabile come trovo bizzarro io dico bizzarro perché poi il discorso del monopolio UEFA trovo bizzarra la nomina di Gravina vicepresidente UEFA trovo inaccettabile invece tutto questo discorso legato al vecchio al marcio che ancora tutt'oggi sta si sta riproducendo all'interno del nostro movimento calcio quindi vedere Gravina vicepresidente UEFA mi fa quantomeno sorridere perché sono ben consapevole di tutti i problemi che abbiamo in Italia e non riesco veramente a comprendere non voglio abbozzare complotti o robe varie aspettiamo anche perché poi il 19 di aprile che è una delle prime date è dietro l'angolo mancano praticamente due settimane 13 giorni vediamo che cosa succederà in quella circostanza anche perché ieri la guardia di finanza ha iniziato a indagare su Roma Lazio Salernitana proprio per il discorso legato alle plusvalenze ora io ribadisco secondo me stanno lavorando malissimo per non essere volgari di con malissimo perché perché nel momento in cui decidi di aprire queste indagini non puoi farle a spizzichi e bocconi cioè noi il 16 il 19 avremo un ricorso al CONI che bene o male è tra gli ultimi gradi di giudizio qui stanno ancora indagando i vertici di altre squadre per una roba che va nella stessa direzione quindi cosa potremmo avere magari la Juventus che poi riotterrà i 15 punti oppure no e poi la Roma e la Lazio e la Sanitana magari per cose simili avranno esiti differenti più in là nel tempo in una finestra temporale differente rispetto a quella che ha avuto la Juventus io secondo me la stanno gestendo in una maniera terrificante mi ha fatto sorridere il comunicato della Lazio che dice la Lazio è una casa di cristallo mi è sembrato il titolo perfetto per una serie su Netflix stile Roma dato che hanno fatto la casa di carta coreana potrebbero fare la casa di cristallo la rapina in una banca romana non lo so in una banca del Lazio una roba del genere scusatemi questa sfumatura ma ci sta almeno non parliamo sempre di argomenti pesanti perché razzismo discorso pesante cose legate alla UEFA molto pesanti per quanto mi riguarda molto pesanti perché si va all'interno di argomenti che forse per tanti diventa anche scomodo parlare perché poi si potrebbero raggiungere determinate posizioni magari proprio lì tra i vertici di quegli enti di quelle organizzazioni parlare del discorso sicurezza nei stadi è una roba pesante parlare di quello che sta succedendo alla nostra serie A con la Juventus che intanto ti puniamo poi sei la prima poi vediamo se vengono fuori le altre secondo me in questo momento il calcio in Italia lo stanno veramente gestendo con i piedi era francamente oggettivamente complicato fare peggio ma non è il fatto che c'è la Juve di mezzo attenzione perché ci fosse stata qualsiasi altra squadra prima indagata e se l'ho fatto una roba del genere l'avrei trovato francamente ridicolo io per fortuna ho parlato con tantissimi tifosi avversari dal vivo perché è successo anche di leggere dei commenti ma è sicuramente più raro dal vivo invece tante persone mi hanno detto sì ma qua sta rovinando dei campionati addirittura dei tifosi del Napoli che mi dicono noi 30 anni che aspettiamo questo momento e poi magari a livello matematico lo vinceremo poi magari vi riederanno i 15 punti quindi poi ce lo ritrolieranno per poi riassegnarcelo capite che hanno ammassato la logica che c'è dietro una competizione calcistica e tutte le notizie che escono di giorno in giorno non fanno altro che allungare questo sorriso che in realtà è un sorriso nervoso perché veramente quello che abbiamo assistito quello a cui abbiamo assistito in questa stagione calcistica fuori dai campi è quanto più incomprensibile e lo diventa sempre più ogni giorno che passa e quindi sono curioso adesso prendo i popcorn metto sulla sedia e do un'occhiata a tutta l'evoluzione che ci sarà da qui alla fine dell'anno a tutta l'evoluzione